Allora, tanto adesso, chi si pari? Le lettere? Cos'è sta roba? E' chiaro che non ci vuole. E lo dico io, tu guardatemi sempre. Mi lasciate dei ditti. Sì, ti puoi entrare sempre. Sì, ti puoi entrare sempre. Ora che non stiamo in paio, guardate che ci sarà un segno di... ...frase, cosa va in passione? Sì, ma... Marce! ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.